Dunque, riprendiamo allora la conclusione dell'esercizio sulla simulazione del pronto soccorso di emergency. La volta scorsa eravamo arrivati di fatto a cominciare a pensare all'implementazione della parte di cura, quindi quando il paziente viene chiamato all'interno dello studio. Questa simulazione qua fa vedere che ci sono degli eventi free studio che noi abbiamo generato, ci ricordiamo quando, sicuramente quando un paziente esce da uno studio dopo essere stato curato, ma anche quando, abbiamo detto, entra in triage, cioè esce dal triage, dove siamo, e ci sono degli studi liberi, quindi qua siamo nell'evento, lassù, triage, del tipo di evento triage, e se trovo degli studi liberi, praticamente schedulo immediatamente la sua chiamata in studio, anziché, diciamo così, lasciarlo semplicemente in sala d'aspetto. Eravamo rimasti nel considerare cosa devo fare a questo punto per gestire l'evento free studio. Il primo punto che ho scritto qua è verifica che c'è davvero uno studio libero, perché abbiamo detto che stiamo generando, potenzialmente generando degli eventi free studio in eccesso, quindi potrebbe darsi che ho generato, ho visto due pazienti che entrambi sono entrati in triage, e entrambi vedono uno studio libero, ma uno solo, ma gli eventi non sono generati due, uno per ciascun paziente. E questo è facile, perché basta una if, no? Cioè, se effettivamente lo studio è libero, o if, dis.numero di studi liberi, no? Studi liberi è maggiore di zero, allora faccio il resto. Poi, diciamo così, finché siamo in modalità debug, altrimenti posso scrivere un messaggino, che poi dovremmo togliere tutti alla fine, nella versione finale, no? Ma per ora, così cerchiamo di capire cosa print, se riesco a scrivere print line, prima della fine della lezione. Nessuno studio libro. Quindi vuol dire che abbiamo un evento. E altrimenti, se gli studi liberi sono maggiori di zero, allora faccio questo lavoro qua, cioè scelgo un paziente e lo faccio entrare. Riguardando il codice, mi sono solo ricordato che questi studi liberi dobbiamo gestirlo, a questa materia dei studi liberi. Allora, quando è che uno studio viene occupato? Beh, dentro free studio, quando effettivamente trovo un paziente e lo sposto. Quindi in questo caso, qua dentro, no? Diciamo, aggiungiamolo come commento, aggiorna gli studi liberi. Occupa uno studio. Per dire, no? Dopo che ho trovato il paziente, segno che quello studio è occupato. E quando è che invece lo studio viene liberato? Viene liberato quando il paziente esce, quindi con l'evento di Hill. E questo ce ne eravamo dimenticati. L'evento di Hill è quello in cui il paziente è uscito, e se è uscito ovviamente era nello studio, e quindi lo possiamo considerare come uno studio libero in più. Mi ero dimenticato la volta scorsa di mettere questo incremento. Quindi i studi liberi si decrementano studi liberi dentro l'evento free studio, quando effettivamente un paziente entra, e invece si incrementano quando il paziente esce. Ok? Adesso, sul trovo il paziente più urgente, avevamo iniziato qualche ragionamento negli ultimi minuti della scorsa lezione, su quale fosse il modo migliore per trovare costui, o costei. È sicuramente una persona che è dentro, dove è finito? Patients, dentro la lista patients, quella che soddisfa il criterio di massima priorità, che abbiamo già ripetuto tante volte, non stiamo a ripeterlo l'enne più unesima volta. Allora, avevamo ragionato, il modo grezzo che dice, ho una lista, mi scorro la lista calcolando l'elemento che ha il massimo valore di priorità, confrontando i campi coloro e il campo tempo. Questo lo posso sempre fare, e magari lo faremo così. Poi in realtà c'è, uno dice, ma abbiamo imparato tante strutture dati più furbe, perché non usiamo strutture dati che in automatico mi tenga conto della priorità? Abbiamo ipotizzato la volta scorsa che questa potesse diventare una priority queue, anch'essa, in modo che poi so già esattamente, direttamente estrarre il componente con la priorità massima. oppure c'è un'altra classe delle collection che si chiama, diciamo un'interfaccia che si chiama sorted set. Sorted list non esiste, anche se verrebbe in mente una lista ordinata, ti verrebbe in mente una cosa che si chiama sorted list, in altri linguaggi la chiamano così, in Java non esiste una cosa che si chiama sorted list, perché loro dicono che il concetto di lista è legato all'ordine di inserimento, e quindi incompatibile con un ordinamento che venga mantenuto automaticamente. E invece ha definito un'interfaccia nelle collection che si chiama sorted set, che di fatto è quello che volevamo, nel senso che potrebbe essere un insieme di elementi che viene mantenuto ordinato. E sorted set ha tutta una serie di metodi del tipo dammi il primo, dammi l'ultimo, cancella il primo, un po' come fosse una coda, però è un generico insieme che la coda prioritaria mi garantisce di trovare facilmente il primo, un sorted set mi garantisce di trovare tutti gli elementi in ordine, e quindi posso anche iterare, su una coda prioritaria non posso iterare, posso solamente stare il primo. Però sia la coda prioritaria che il sorted set hanno un problema che calcolano la priorità o l'ordine nel momento in cui l'elemento viene inserito. Se noi andiamo a leggere la documentazione set ad esempio ufficiale, c'è una frasetta carina che dice qui sono un'interfaccia di set, quindi per tutti i set di cui sorted set è una sottoclasse, una sottointerfaccia, e poi è una classe che la implementa che tipicamente sarebbe 3 set, quindi avremmo potuto usare una classe 3 set di tipo sorted set per il nostro lavoro. Il problema è questa frasetta qua, che discende da set e tutti gli altri. Leggiamo qua. Bisogna fare molta attenzione se come elementi del set usiamo degli oggetti mutabili. E il nostro oggetto paziente è un oggetto mutabile. Perché gli muto il colore e gli muto il tempo d'arrivo. Allora il comportamento di un insieme non è specificato se il valore di un oggetto viene modificato in modo che praticamente modifichiamo i campi che vengono coinvolti nell'equals. o nell'hash code che sono gli stessi. Quindi tutti gli oggetti che sono imparentati con il set e anche con le code prioritarie ma anche con le tabelle di hash quindi ci sono una map o un hash set un hash map eccetera calcolano il codice di hash oppure confrontano gli ordinamenti nel momento in cui faccio l'add l'inserimento dell'elemento. Poi la struttura dati dà per scontato che quel valore non cambi più. Noi possiamo modificare altri campi ma non i campi che concorrono al calcolo della funzione di hash o l'uguaglianza o il compare to insomma i vari metodi che l'oggetto fornisce per capire dove deve essere inserito. Quindi in questo caso o cambiamo totalmente strategia e quindi il paziente diventa un oggetto immutabile e quindi quando un paziente muta di stato in realtà ne tolgo uno e ne creo un altro dovrei però cambiare buona parte del codice che ho usato adesso togliere tutti i setter cioè una classe che non abbia setter è tranquilla da questo punto di vista una classe che abbia dei setter e questi setter siano coinvolti nel calcolo di equals non va bene non si può usare quindi o ripenso l'oggetto patient come oggetto immutabile allora qua tranquillamente posso mettere una priority queue o un 3 set che è un tipo di sorted set e quindi definendo un comparatore che faccia il confronto giusto posso estrarre facilmente il primo paziente con la priorità più alta e me lo fa già la struttura dati ma con il nostro approccio in cui il patient è una classe mutabile non funziona se provaste a farlo tirerebbe fuori i pazienti sbagliati in certo senso e quindi ce lo dobbiamo fare in modo diverso in modo manuale non fidandosi di una struttura dati che sia già di per sé ordinata ma tenendo conto che questa struttura dati è non ordinata e allora possiamo fare in due modi quando ci serve il primo paziente o ordinare questa struttura dati fare un sort tutte le volte che siamo un paziente spendo del tempo a fare un sort di questa struttura dati oppure che ha un costo che essenzialmente il sort di Java ha un costo che è circa n log n dipende no proporzionare la lunghezza del numero di elementi per il loro logaritmo oppure un calcolo di massimo o di minimo ogni volta che ha un costo semplicemente proporzionale al numero di elementi perché devo semplicemente scandire una lista quindi in questo caso mi costa meno trovare un massimo minimo quindi tornare alla soluzione grezza di cui parlavamo prima costa meno perché purtroppo le soluzioni più sofisticate non le possiamo usare per come abbiamo usato la classe patient ci avessimo pensato prima magari in un altro in un altro contesto magari avremmo scelto di implementare patient come classe non mutabile quindi questo tutto è un grosso discorso per dire questa funzionalità qui che adesso troverò eccolo qua trovo il paziente più urgente da patient alla fine ce lo facciamo in modo semplice calcolare il minimo elemento di una lista il minimo elemento di una lista quindi potrebbe essere un paziente best diciamo e lo prendiamo come il primo quindi potrebbe essere this.patients .getD0 e poi vado a vedere iterando sulla lista se ne trovo uno migliore quindi posso controllare for patient p nella lista patient se questo è un calcolo di minimo banale p diciamo così comes first class before t best allora best uguale p mi sono inventato un metodo della classe patient che mi dica che di fatto c'è un comparatore non l'ho chiamato compare to perché è un confronto particolare per la sua priorità è un confronto tra l'altro parziale perché ha senso confrontare solo elementi che siano entrambi nella nella sala d'attesa e quindi alla fine avrò un oggetto best che fa riferimento al paziente che devo curare che viene effettivamente chiamato nello studio questo metodo funziona vabbè devo implementarmi questo metodo qua va bene queste tre righe funzionano a patto che dov'è che può saltare fuori una bella null pointer exception in che riga può saltare fuori questa qui la prima se patient è vuota in realtà c'è una ancora un dettaglio di cui dobbiamo tenere conto quindi se patient è vuoto questo metodo non funziona però patient li inseriamo tutti all'inizio non dovrebbe capitare quello che potrebbe capitare è che questo paziente messo qua non è in strada d'aspetto cioè come funziona questo confronto per i pazienti che non sono in sala d'aspetto non funziona non ha non ha senso un paziente che sia in out che sia già uscito che sia new che non abbia ancora fatto il triage quindi devo fare attenzione che io questa cosa qua trovo i pazienti più urgenti da patients è sbagliato scritto così il commento io l'ho implementato così ma non è giusto dovrei dire dai patients che si trovano in sala d'aspetto allora magari questo lavoro qua si può fare in tanti modi ma per farlo facile potrei dire mi faccio una prima lista che contenga solo gli elementi che sono in sala d'aspetto una lista temporanea e poi calcolerò il minimo su questa lista temporanea quindi anziché patients mi creerò una nuova lista di patients diciamo così in sala new array list vuota e a questo punto vado a buttarci dentro solamente gli elementi i pazienti che sono in sala d'aspetto for patient p due punti tutti se il paziente in sala d'aspetto quindi il suo colore è è vabbè posso anche usarlo uguale perché tanto sono dei numeri uguale a bianco or il suo colore è uguale a giallo o il suo colore è uguale a rosso allora vuol dire che è in sala d'aspetto e quindi lo posso aggiungere in sala add dp e il lavoro che faccio dopo lo posso fare non su this.patient ma su quelli in sala giusto? mi crea una sottolista questo si poteva fare con con gli streaming con i lambda ma non andiamo a complicarci il codice perché mi dice che è un errore qua ridempi perché devo rinominarlo perché l'ho chiamato già più sotto ah già applica il lavoro sì 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 in realtà in sala perché mi dai allora un attimo che c'è qualche in sala è una lista di pazienti ok patient p diamo un pezzo per volta questa parte qua ah si arrabbia perché altrove nel codice c'è una variabile che ho chiamato p da qualche parte eccola qua quindi chiamiamola ps per dire paziente in sala ok allora qui ho creato la lista dei pazienti che sono effettivamente in sala d'aspetto a questo punto però questa lista può essere vuota cioè immaginate all'inizio inizio della simulazione quando sono tutti ancora prima del triage oppure alla fine della simulazione quando sono tutti out oppure black allora qua ovviamente il calcolo del best del paziente da estrarre dovrò farlo solamente se c'è qualcuno se la size di questa roba è effettivamente maggiore di zero allora posso fare questo quindi ci mettiamo gli commenti vediamo di non far casino se ci riesco chiudo una e poi la parentesi graffa la chiudo qua c'è tutta questa parte tutta questa parte dov'è che si fa così vedete che sto cercando di riformattare il testo dove è finito format questo qua lo vediamo dopo perché si arrabbia format ok allora se c'è effettivamente almeno un paziente in sala d'aspetto allora sono sicuro di doverne chiamare uno allora scelgo quale chiamare e poi mettiamo posto questo ciclo occupo lo studio lo segnalerò come in cura e schedulerò la sua uscita quindi in questo caso abbiamo chiamato best il paziente che deve essere curato quindi lo curo quindi gli dico che il suo stato adesso è in stato di che stato gli devo dare non ce l'ho ancora uno stato per indicare il fatto che lui è in cura quindi dovrò aggiungere un nuovo stato che non so healing ad esempio o in studio perché sicuramente adesso era giallo rosso o verde ma io voglio togliere il suo giallo rosso o verde non voglio confondermi sul fatto che sia e quindi magari definisco un nuovo stato su patient che non è ancora out non è più in strada d'aspetto ma è healing diciamo si sta curando sta guarendo e allora posso mettere questo stato healing healing e devo schedulare il fatto che lui dopo un po' esca uscirà quindi schedulare l'evento heal dopo un tempo che è variabile in funzione della sua gravità anche qua avevamo se torno su a vedere nelle costanti avevamo dei tempi di guarigione di cura diversi a seconda del bianco rosso o giallo quindi tornando giù prima di cambiare lo stato e quindi dimenticarmi che stato aveva scheduliamo verifichiamo in funzione dello stato if best.getState è uguale a white allora devo schedulare un nuovo evento this.cue.add più un nuovo evento a che tempo? beh il tempo attuale più l'inter più scusami plus il di white primo parametro dell'evento secondo parametro di evento è il tipo di evento che è un evento di tipo heal il terzo parametro è il paziente questo nostro best magari vado a capo qui così si riesce a leggere quindi se lui è un paziente bianco schedulo l'evento per cui lui verrà guarito e adesso dico che è in stato di healing è in stato di cura quindi effettivamente è stato chiamato ho occupato uno studio e lui è in fase di cura poi dovrò ripetere queste due istruzioni per gli altri due colori chiaramente quindi else if se il colore invece anziché white fosse giallo allora facciano heal di giallo cambia solo il tempo gli altri sono uguali altrimenti se il colore fosse rosso allora introduco un ritardo di heal rosso tutti questi if un pochino sono noiosi forse dovessimo lavorarci per più tempo magari delle piccole array delle piccole liste con dentro i tempi con dentro però per ora ce la siamo cavate ci rimane solamente più questa parte qui allora in cui di nuovo abbiamo questi pazienti in sala stiamo cercando quello che viene prima di tutti gli altri partendo dal primo andiamo a pescare tutti gli altri ci rimane semplicemente quindi da implementare questo metodo comes before che implementiamo nella classe patient quindi creiamo un metodo vero falso un paziente questo paziente viene prima o dopo diciamolo other questa è una sorta di comparatore allora quando è che un paziente viene prima di un altro se io sono rosso e lui no indipendentemente dal colore quindi se io sono rosso this.state uguale red e lui no e other.state diverso da red scusate state.red allora io vengo prima la domanda è vengo prima poi se io non sono rosso quindi potrebbe essere che io sia giallo e lui non sia giallo o che sia bianco quindi se lui è rosso vince su qualunque cosa giallo vince su bianco solo non vince su rosso ok quindi if else if io sono giallo this.state uguale state punto yellow e other punto state fosse uguale a white state punto white allora di nuovo sono io se se io fossi giallo e lui è rosso allora vince lui quindi altro caso uguale a questo forse sto facendo più case del minimo indispensabile problema io sono giallo lui è rosso allora ritorna falso invece perché il giallo non viene prima del rosso quindi abbiamo considerato il caso rosso contro tutti giallo contro bianco rosso a questo punto possiamo considerare il caso di bianco se io sono bianco e lui non è bianco vince lui quindi è simmetrico di ciò che abbiamo fatto con il rosso se io sono white e lui non è white allora vince lui cosa rimane ancora come caso da considerare beh se non sbaglio abbiamo considerato tutti i casi tranne quello in cui abbiamo lo stesso colore no perché rosso giallo l'abbiamo pescato qua rosso bianco l'abbiamo pescato qua giallo bianco giallo rosso e qua prende sia bianco giallo che bianco rosso cosa è rimasto fuori è rosso rosso giallo giallo bianco bianco nel qual caso a parità di colore vado a vedere il tempo e quindi vado a vedere altrimenti vince chi è arrivato prima return chi è arrivato prima quindi this.arrival meno other.arrival scusate minore di other.arrival se il mio tempo d'arrivo è minore dell'altro perché terrabbi ah perché sono scusa non sono numeri ma sono temporal quindi is before eccolo alla fine vado a confrontare se la mia ora di arrivo è minore dell'altra allora true altrimenti false minore o minore uguale per come lo usiamo noi ha senso minore perché se trovo minore modifico il best se fosse uguale non vado a modificare il best non mi serve se fossero esattamente con la stessa priorità mi tengo quello che avevo trovato quindi con questo abbiamo implementato questo metodo comes before e ovviamente c'è qualche problema da risolvere ps is null perché ps è null caro mio a 161 se sto iterando questo cannot invoke comes before because ps è null in sal non conterrà dei null spero fatemi mettere un breadpoint qua perché non mi convince in sal un array list che contiene un elemento solo che è un null bene perché sono pirla e ho aggiunto p e non ps perché sono pirla è sempre una costante nel debugging non preoccupatevi anche sotto vedi mi hai salvato dove ps grazie allora adesso non si arrabbia più e cosa mi stampa vediamo un po' dall'inizio abbiamo new triage questo è diventato white essendo white genera subito un free studio perché appena è entrato appena è diventato bianco quindi dice c'è uno studio libero e quindi ci posso entrare l'evento free studio quindi qua alle 8.5 fa entrare quel paziente ricordiamoci che free studio quando il paziente entra io l'ho schedulato qua alle 8.5 istantaneamente l'8.5 viene chiamato e all'8.15 esce guarito poi alle 8.5 stesse viene generato un free studio perché quello studio si è liberato e qui purtroppo il tempo devo andare a vedere perché alle 8.5 avvengono una serie di cose in parallelo un paziente che esce e un altro che arriva quindi si sovrappongono sono un po' mescolate le cose e così via da un certo punto in avanti in teoria dovrebbe esserci sempre healing e poi heal quando escono che sono guariti alla fine possiamo non mi sembra che sia mai capitato quella condizione che avevamo previsto in cui ah no possiamo dire ecco questo qua potremmo aggiungere nessun studio libero non si è mai verificato però possiamo aggiungere a scopo di diciamo comprensione possiamo dire qua nessun paziente disponibile in attesa così vediamo se si verifica sì a volte si si verifica quando quando generiamo dei free studio in accesso può darsi che non ci sia paziente in questo momento in sala d'aspetto perché o perché è capitato un time out e andate a ricordare il time out è sempre un'ipotesi può capitare e anche il free studio è un'ipotesi si libera uno studio vado a vedere chi c'è magari non c'è più nessuno perché o sono morti o se ne sono andati nel caso del out oppure del red quindi tutti eventi che noi scheduliamo in previsione che ci possa essere qualcosa da fare ma poi prima di fare dobbiamo verificare se nel frattempo lo stato del sistema non è cambiato rispetto a quando l'avevo schedulato e quindi non c'è più nulla da fare se noi a questo punto facciamo due statistiche nel test simulator potremmo stampare i valori che il simulatore calcola che sono dunque non mi ricordo si chiamavano sim get numero di pazienti totali totali sono questi poi potrò stampare quelli che sono se non sbaglio i morti allora quelli curati diciamo così poi ci sono quelli abbandonati e poi quelli invece morti vediamo un po' e là li abbiamo curati tutti nessuno è abbandonato nessuno è morto che è un buon risultato forse sorprendente proviamo ad aumentare il numero di pazienti a questo punto quindi possiamo aumentare il numero di tre era il numero di studi medici noi possiamo dire adesso arrivava un paziente ogni sembra strano arriva un paziente ogni dieci minuti facciamone arrivare uno ogni cinque minuti semplicemente impostando noi avevamo previsto di poter modificare i parametri sim punto set arrival di questa roba qua è imposto a 5 vediamo se cambia qualcosa beh qualcosa è cambiato nel senso che ne sono arrivati i 144 ne abbiamo curati i 136 8 codici bianchi si sono stufati se adesso licenziamo un medico e quindi abbiamo solamente due studi è brutto dire finalmente molto qualcuno ma almeno vediamo che la simulazione fa qualcosa il numero di curati aumenta decisamente il numero di abbandoni e cominciano a comparire alcuni alcuni morti valori ovviamente ballerini perché l'unico costante è il numero di pazienti ma gli altri numeri sono variabili e per fortuna se facciamo la somma di questi tre numeri fa questo quindi vuol dire che non ci siamo persi dei pazienti per strada nella simulazione tutti quelli che sono entrati li abbiamo fatti uscire in uno dei tre modi possibili altrimenti vorrebbe dire che ci siamo dimenticati qualche evento o qualche condizione particolare allora questo chiaramente è un esercizio di simulazione abbastanza complesso perché abbiamo tanti tipi di eventi e poi l'oggetto simulato che il paziente a sua volta ha uno stato complesso al suo interno ci è servito un po' per aiutarci a fare un po' di ragionamenti vedere un po' di casi particolari che poi per fortuna poi negli esercizi che vi daremo non capitano tutti insieme ecco contemporaneamente ok allora io se ci sono domande su questo dimmi i pazienti totali come è il paziente totali i pazienti totali non vengono calcolati ma sono una conseguenza del tasso di arrivo dei pazienti stessi e della durata della simulazione quindi io il tempo di inizio sono gestiti qua in initialize li creo qua i pazienti partendo dall'ora di inizio di simulazione generando un paziente nuovo ogni t-arrival fino a quando non trovo il tempo di fine della simulazione quindi orario di inizio orario di fine tasso di arrivo questi tre determinano quanti pazienti avrò in questo modello deterministico se no se uno volesse applicare un modello stocastico va a modificare questo metodo ok allora interrompo la registrazione perché passiamo a un esercizio diverso un esercizio diverso